Momenti di paura alle 7 del mattino ad Altivole per un terribile scontro tra una Fiat Punto e un autobus di linea che stava trasportando gli studenti a Castelfranco. Tre feriti, il conducente dell'auto, un uomo di 40 anni che procedeva lungo via Laguna, il più grave, e due dei ragazzi che viaggiavano in corriera, che hanno riportato traumi al volto, tutti trasportati al nosocomio castellano. Un solpasso azzardato all'origine del sinistro, da una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, pare infatti che il quarantenne, diretto verso nord, abbia superato un'auto a folle velocità, mentre dalla parte opposta di marcia arrivava il bus guidato da un 49enne. A raccontarci sotto shock l'accaduto uno dei coinvolti nel sinistro stradale all'intersezione con via Corazzin. Io praticamente ero fermo in questo punto con la freccia che svoltava a sinistra e aspettavo l'autobus che arrivava dal centro di Altivole per dare la precedenza all'autobus e un signore con una puntonera mi ha praticamente tamponato provando a schivarmi. Mi ha tamponato dopo di che ha fatto il frontale con l'autobus, che anche l'autobus a sua volta ha provato a schivarlo e si è praticamente schiantato quasi contro il palo. Il bus è finito nel fossato a lato della strada, la polizia locale ha bloccato il tratto per diverse ore fino a che l'area non è stata messa in sicurezza e liberata. Di certo si è sfiorata la tragedia lungo una strada via Laguna che i residenti segnalano come pericolosissima. Corrono troppo, dalla mattina alla sera corrono troppo, sempre, sempre. Sono stati chiesti anche interventi al comune? Sono stati fatti, fanno qualcosa però vedi, dopo succede come stamattina. Siete preoccupati voi residenti? Insomma abbastanza perché qua è abbastanza pericoloso, bisogna stare attenti, vai a piedi, in bicicletta, anche con la macchina, passano i camion così, è un disastro insomma. Una strada molto pericolosa? Sì perché corrono troppo. Come residenti siete preoccupati? Beh non c'è, per cui si è, per quanto che saga i fiori che ho i nipoti qua, la sa, ma arriva fora. Non è stato fatto nulla ancora, qua in fondo è stato fatto un dosso, ma a quanto pare non è servito molto. Speriamo che con questo appello ci possano magari sentire, sì. Prima che debba succedere. Esatto, prima che succeda qualcos'altro di così tanto grave insomma. Perchè! Ora,